Grintosa come un aglio e olio, cremosa come una caccia e pepe, la carrettiera è la ricetta salvacena più buona che c'è. Spaghetti, prezzemolo, peperoncino, aglio e olio e pecorino. Sei tutto in dispensa? Cominciamo! La carrettiera è una ricetta velocissima che prepara esattamente nel tempo di cottura degli spaghetti, quindi l'acqua bolle, la salo e posso buttare la pasta. E mentre cuoce posso occuparmi degli altri ingredienti, pochi ma di ottima qualità. Trito il prezzemolo. Per mantenere il sapore fresco del prezzemolo e non ossidare troppe le foglie, evito di passare troppe volte con la lama, quindi in questo caso evita la mezzaluna anche se ti sembra comoda. Passo il peperoncino. Come vedi sto tenendo anche i semi, tu se preferisci una minor piccatezza puoi anche eliminarne una parte. È il turno del pecorino. Lo grattugio. La pasta alla carrettiera deve il suo nome al fatto che i carrettieri siciliani usavano a portarsi dietro gli ingredienti per prepararla durante i loro spostamenti. Ingredienti come puoi vedere erano molto facili a trasportare e poco depuribili come l'aglio, il formaggio stagionato e il peperoncino. Il prezzemolo no, quello ci sarebbe sciupato, non credo ci fosse nella ricetta originale. Prendiamo una ciotola, un bel giro d'olio, poi aglio che vado a privare dell'anima. In questo modo risulterà più digeribile, visto che utilizziamo crudo schiaccio, utilizzando uno spremiaglio. Ovviamente in alternativa puoi anche gritarlo finalmente con il coltello. Aggiungo il peperoncino, una salatina, senza esagerare perché il peperino è già molto sapido. Poi emulsiono con una forchetta e controlliamo la pasta. Perfetta è al dente, la scollo direttamente in ciotola. Una prima mescolata ed è già un buon aglio, olio e peperoncino. Posso aggiungere il pecorino. Acqua di cottura. Ed è il momento di mescolare energicamente per sciogliere il formaggio e creare quella cremina irresistibile che ci piace tanto. Completiamo con il prezzemolo. Un'ultima mescolata e sono pronta per impiattare. Esistono diverse versioni più moderne di questo piatto, con funghi, con tonno, con pomodori pelati, con la ricotta salata al posto del pecorino, ma per me questa carrettiere è semplicemente perfetta. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se la provi a casa mandami commenti e foto sui nostri social. Buon appetit!